Sì, un gruppo straordinario, devo dire la verità. Da dicembre forse troppi pareggi abbiamo fatto nel girone di ritorno, però non perdiamo da dicembre 2018, circa 20 partite. I risultati sono a favore, abbiamo due risultati su tre a favore, spero che ci vada bene, la squadra sta in forma, vediamo domani, speriamo bene. L'appello lo faccio non solo a tutti i montfortesi ma anche a chi è di Avellino, perché poi è il girone montorese, quindi erano circa dieci squadre di Montoro, l'unica che è riuscita ad arrivare nei playoff è quella che giocherà contro di noi e quindi spero che vengano in tanti anche da fuori, anche fuori Montforte. Lo so che è presto ma avete già iniziato a pensare a qualcosa per la prossima stagione o prima del risultato definitivo, non volete insomma dire nulla? Beh allora, per quanto ne so io la società sta già lavorando per il prossimo anno, poi non me ne occupo direttamente io, spero di esserci. Il presidente, il direttore, quindi Freda, D'Apolito, Barbarisi stanno già lavorando e stanno cercando di fare una squadra che spero possa fare la seconda e una seconda con ottimi obiettivi.